Nord per i drizzoni Che è? Va bene Vado bene, sparo 1 Benvenuti nel vlog 01 Sono qui al mare a flexor con la gang VLOG PARTE 2 Ciao mamma Non hai questo potere Non puoi scegliere il nome dei poteri Cazamai partito da un video Prima ti ho detto giganti e potenti Va bene Nooo Cacculo Adesso Ciao Ciao Adesso Ciao C trader Ra